Eugenio Massetti, Presidente della Confartigenato Brescia. Buongiorno e grazie di essere nostro ospite. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, le chiedo subito, a caldo, queste le parole di Mario Monti. La situazione nel Paese è una situazione molto delicata. Si è deciso quindi di affidare, questa è la decisione del Presidente della Repubblica, ad un tecnico, la formazione di un nuovo governo per uscire da questi impasse. Lei come giudica questa scelta di Napoletano? È stata una scelta, si può dire, obbligata dopo quello che è successo in Parlamento. Abbiamo assistito in questi periodi ad una maggioranza solida nei numeri, un po' meno solida nella compattezza delle scelte. Non do giudizi sull'operato del governo Berlusconi, se non la cosa positiva prima delle dimissioni, che è stata l'approvazione dello Statuto per le imprese, che per noi è una pietra miliare di quello che da anni chiediamo per il trattamento alle imprese da parte della politica. Poi sulle scelte di Napolitano penso che non avesse grandi chance di diversificare la scelta che ha fatto. La scelta io la giudico positiva, soprattutto perché gli interessi sono quelli della salvaguardia dell'Italia. La cosa che eventualmente dovrà essere monitorata sarà quella dei mercati internazionali, sicuramente che daranno ragione di questa scelta, ma non dovremo diventare oggetto di speculazione internazionale che è lì in attesa che succeda qualcosa di strano all'Italia, alla politica, al governo, per andare a fare un po' sciacallaggio, che è la cosa che noi tutti non vogliamo. Ecco, in proposito, c'è da dire che questa mattina la borsa Fuzzimi va aperta con un più 2%, una buona apertura, in questo momento però è in territorio negativo, sta perdendo circa mezzo punto percentuale. Noi più avanti vedremo un servizio che ci parla invece della Spagna. In Spagna si è deciso per le elezioni, la Spagna si sta preparando alle elezioni. Dico questo perché ci sono state diverse polemiche in questi ultimissimi giorni sul presunto commissariamento dell'Italia da parte dell'Europa, da parte della finanza. Perché si è arrivati alla decisione di un governo tecnico e per noi non è stato possibile un governo politico o andare alle elezioni? Perché ci siamo mossi troppo tardi, forse. Ma perché la storia dell'Italia è diversa dalla storia del resto dell'Europa. I governi tecnici in Italia non sono una novità e non c'è nemmeno da scandalizzarci. Per cui io vedo di buon occhio questo governo perché faccia le cose che deve fare per poi ridare, non so quando, non aspetta a noi dirlo, non interessano che le cose vengano fatte, andare alle elezioni e ridare la parola agli elettori. Poi su questa ipotesi di commissariamento da parte dell'Europa sull'Italia spero che non avvenga perché sarebbe una sconfitta non solamente per la politica ma per tutta l'Italia. non sarebbe neanche un bel segno perché, come si dice, ognuno si guardi in casa sua, guardassi i suoi problemi, l'Italia secondo me ce la farà senza arrivare a questo punto. Le associazioni di categoria, le imprese, Confindustria, qualche settimana fa il governo hanno presentato un documento con alcune cose da fare, cose concrete per l'impresa e per l'azienda. Rimangono sul tavolo? Sono cose che noi abbiamo presentato un mese fa, la situazione non è cambiata, per cui rimangono tuttora valide. È stato un segnale importante che associazioni importanti e nazionali abbiano sottoscritto un documento unitario dove chiediamo in realtà poche cose, non chiediamo la luna, noi chiediamo per quanto riguarda il nostro livello confartigianato, gli artigiani, chiediamo pagamenti certi, chiediamo più soldi alle piccole imprese che investono in questo periodo di difficoltà, chiediamo meno burocrazia nello svolgimento del nostro lavoro quotidiano. Non mi sembra che chiediamo molto, chiediamo solamente di essere in grado di lavorare, di metterci in concorrenza, quantomeno allo stesso livello con l'estero. La cosa importante che noi stiamo portando avanti, anche a Brescia, sono le reti di impresa che ci consentono di essere più competitivi con il mercato estero, perché data la nostra dimensione di piccoli, siamo piccoli in termini di dimensioni, ma siamo grandi per le idee, per i prodotti che facciamo di alta qualità. Ecco, questo noi stiamo facendo e anche stasera per esempio a Gussago siamo partecipi, interveniamo a questo convegno organizzato da una forza politica locale, dove parleremo di reti di impresa, parleremo appunto di competitività. Dobbiamo tenere presente che Monti non farà altro quello che il governo Berlusconi comunque aveva lì pronto da fare, che tutti chiedevano di fare, però purtroppo non è stato fatto, per cui dico, non è tutta colpa, come si dice, delle minoranze se oggi protestano e dicono alcune cose. Dico, forse questa maggioranza ha tirato troppo in lungo il problema pensando probabilmente di risolverlo, oppure che si risolvesse da solo sperando che i mercati riprendessero. Non è stato così. Dico, secondo me questo è il momento della moderazione, è il momento di guardare veramente i problemi dell'Italia, degli italiani, delle imprese e lasciando in un secondo tempo che arriverà il problema politico, partitico, il consenso. A me dispiace che qualcuno voglia scendere in piazza per protestare contro cosa non si sa di preciso dal momento che chi era il governo doveva fare quelle cose lì e questo è il risultato perché quelle cose non sono state fatte. È vero che non si ragiona con i sé, però facendo qualche passo indietro, tornando al dicembre del 2010, se Berlusconi avesse fatto un passo indietro prima, oggi sarebbe stato possibile forse formare addirittura un governo di centrodestra con un uomo indicato dallo stesso Berlusconi o addirittura andare alle elezioni senza arrivare ad un governo tecnico oggi? È difficile anche dire chi ha il consenso della gente, del popolo e ha una maggioranza schiacciante in Parlamento chiedegli di dimettersi. Certo sta che gli statisti di solito riescono a capire anche quando è il momento di fare il passo indietro, senza per questo vuol dire mandare a casa la forza che ha vinto le elezioni. Ecco, forse questa cosa lo statista, io non dico che lo sia o meno, però dico lui ha affermato di esserlo, lo statista Berlusconi poteva capire prima che forse era arrivato il momento di cedere il passo a comunque a una persona del proprio partito o della propria maggioranza, visto che i numeri c'erano. Sta di fatto che questa situazione oggi come oggi io la lascerei la lascerei alle spalle. Cioè quella storia è una storia oramai che riguarda il recente passato, oggi c'è da fare qualcosa di importante per recuperare il terreno perso, di chi è la colpa? Vabbè, gli italiani le cose le vedono, non aspettano il sottoscritto qualcun altro a dire di chi è la colpa. Noi imprenditori non facciamo politica, noi abbiamo il ruolo di seguire le imprese, risolvere i problemi e di essere da sollecito alle forze politiche, soprattutto quelle che governano, perché quelle che stanno all'opposizione stanno all'opposizione e non hanno gli strumenti per decidere. Ecco, allora parliamo proprio di questo, adesso un'ultima battuta sulle iniziative della Confartigenato, prima ci accennava qualcosa, stasera un incontro a Gussago. Sì, stasera come come tante serate di questo periodo noi faremo un incontro a Gussago dove parleremo di reti d'impresa e di competitività. Abbiamo smesso di parlare di crisi perché bisogna anche cambiare un po' il lessico, bisogna andare oltre ed essere anche propositivi. Noi abbiamo cominciato a parlare di opportunità, le reti d'impresa sono un'opportunità per le imprese, sono un'opportunità per essere più competitivi sui mercati esteri e visto che noi abbiamo i prodotti giusti probabilmente ci manca il mezzo per far conoscere sui mercati esteri i nostri prodotti. Le reti d'impresa sono uno di questi strumenti e lo presentiamo con una forza politica che è l'Udc ma abbiamo fatto convegni con tutti, abbiamo fatto convegni con la Lega, con l'Udc, col PDL, con il PD, noi parliamo e siamo sempre presenti quando c'è da parlare di lavoro e quando c'è da difendere le prerogative, le aspettative e i bisogni degli artigiani, non ci interessa il colore politico, noi utilizziamo chi ci può portare là dove la necessità delle imprese artigiane ci deve portare.